È previsto dalla normativa ed è estremamente importante per dare un senso di completezza e di impulso a tutta l'operazione, quindi successivamente alla conferenza dei servizi. Un primo passaggio formale ma ufficiale per dare avvio a tutto il progetto nella sua interezza. Per la messa in sicurezza di tutto il bacino del torrente Rupinaro a Chiavari arriva il momento della discussione e approvazione nell'Aula del Consiglio Comunale. Interventi che prevedono la sistemazione degli argini, del corso d'acqua, la realizzazione di uno scolmatore, la messa in sicurezza dei Ri, Bacezza e della Moranda e la ristrutturazione delle linee fognarie. Un quadro economico che per il primo lotto supera i 7 milioni di euro di cui 5 ottenuti dalla Regione, un milione a carico del Comune. L'iter prevede un passaggio in Consiglio Comunale per approvare il progetto nella sua interezza dopodiché ci saranno varie conferenze di servizi, un'altra modifica tramite Consiglio Comunale per adattarlo al PUC e poi singole terminazioni di giunta e poi finalmente partiamo col primo lotto, 7 milioni e 8 di euro per cominciare a mettere in sicurezza i nostri argini a valle del Ponte Castagnola. L'altra pratica che sarà discussa in Consiglio è il bilancio di previsione 2023, documento che prevede 70 milioni di stanziamenti per il primo anno e un pareggio di bilancio nel rispetto degli equilibri di legge. Nessun aumento per Imo e addizionale IRPEF nonostante il caro Bollette. Abbiamo ottime entrate dai parcheggi blu che si conferma una scelta importante quella di tenerli in house che ha portato un vantaggio di oltre 1.200.000 euro netti quindi non avremo variazioni sull'Imo e sull'addizionale IRPEF nonostante il caro tariff e gli aumenti che ci sono stati in questo periodo riusciamo a conservare tutto e a dare gli stessi servizi sociali ai cittadini per quanto riguarda tutti gli aspetti dell'assistenza e dell'aiuto anche al caro affitti e a questi aspetti che sono certamente tutti conservati. Il sociale è una delle voci più importanti del bilancio? Sì, assolutamente è una voce importantissima che viene regolarmente seguita e controllata dal nostro vice sindaco che si dedica molto a questo settore per cercare di andare incontro a tutte le esigenze e di migliorare proprio anche i servizi e di economizzare e aumentare la prestazione verso i cittadini bisognosi.